Professore, ciao Gerardo, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Dicevo, il saluto anche se a distanza credo sia doveroso, perché l'Archivio di Stato di Venezia non è soltanto un soggetto conservatore, ma è un soggetto che valorizza le fonti primarie. Quindi per me è particolarmente importante salutare non tanto come individuo, ma quanto come ruolo, perché in queste avventure l'importante è che l'istituzione segua un'idea, un progetto e lo realizzi indipendentemente dalle persone. Per esempio io in questo non ho alcun merito, ma non posso non ricordare la dottoressa Maria Francesca Tiepolo con il quale molta strada è stata fatta. Due parole brevissime e poi lascio a voi i lavori. Il tema delle deliberazioni è un tema straordinario, di straordinaria modernità, anzi oserei dire contemporaneità, per una ragione molto semplice, perché il redattore o il compilatore oggi delle deliberazioni si troverebbe tranquillamente a proprio agio nello scrivere, nello stendere una nuova deliberazione per qualsiasi collegialità amministrativa, magari per l'odierno Comune di Venezia. Perché la grandezza della Serenissima in questo è aver lasciato un metodo diplomatistico, di costruzione, di elaborazione delle parti, delle deliberazioni, seguendo una logica di assoluta modernità, compresa la parte per esempio legata all'istruttoria d'ufficio, all'istruttoria eteronoma. Perché? Perché nell'archivio di Stato di Venezia non si conservano soltanto i registri, quindi le sintesi del decisum, dei decisi, delle disposiziones, ma si conservano anche tutte le, diremo oggi, le pezze giustificative, le parti istruttorie nelle filze, nelle quali si dipanano tutte le decisioni prese dal Senato. E questo è importante perché il ruolo che abbiamo noi come archivisti è un ruolo altamente importante di conservazione della tradizio, della trasmissione di un documento così importante, di una serie di documenti straordinari perché non vi è di fatto alcuna soluzione di continuità, che ci permettono di ricostruire la storia decisionale delle più importanti collegialità amministrative e primo fra tutti chiaramente il Senato. Chiudendo vi segnalo una cosa, l'archivio di Stato di Venezia riprenderà a brevissimo proprio, credo già entro l'estate, la pubblicazione dei propri quaderni. Ne abbiamo pubblicati due finora, ma il terzo quaderno sarà proprio dedicato alla redazione diplomatistica e archivistica, quindi non di contenuti, non di trascrizione, ma alla comprensione istituzionale del processo deliberativo degli organi della Serenissima. Lo curerà Andrea Erboso, che sto seguendo direttamente, perché diventa proprio una testimonianza fondamentale comprendere quali siano i meccanismi, i gangli anche da superare, all'interno della volontà provvedimentale della nostra Serenissima. Quindi 20 anni di lavoro che si chiude oggi, trovano in realtà davvero una chiusa fondamentale che è quello di guardare sempre avanti e di considerare questo enorme, perché si tratta di un enorme traguardo, in realtà un punto di partenza. Quindi grazie a te, professor Rottalli, di questo invito. Io mi metto religiosamente in ascolto e vi auguro buon lavoro e ovviamente anche a domani. Grazie.